Ombrellone per balcone, Ikea porta il fresco con Lille. Troppo sole sul balcone rende difficile godere l'outdoor estivo. Ikea offre un ombrellone elegante e pratico, Lilleux, perfetto per piccoli spazi. L'ombrellone Lilleux di Ikea è ideale per balconi esposti al sole. È addossabile a pareti o ringhiere e la copertura lascia passare l'aria. A soli 29,95 euro il design di Lilleux si integra con ogni arredo. Inoltre la copertura è lavabile rendendolo pratico e sostenibile. Completa l'ombrellone con accessori Ikea come la base Bramson per la stabilità e la custodia Tostero per la protezione invernale. Grazie! 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 Grazie!